Articolo 5, sempre della questione 12. Abbiamo visto che per giungere a Dio l'intelletto da solo non ce la può fare. All'articolo 5 si riflette sempre a questo proposito su un altro problema. Ma sembra che l'intelletto creato per vedere l'essenza di Dio non ha bisogno di un qualche lume creato. Questa è la tesi di chi contestano invece, la tesi di Tommaso che ritiene che ci debba essere una luce particolare. E vedremo poi la conclusione. Allora c'è chi dice, nelle cose sensibili ciò che di suo è luminoso non ha bisogno di altro lume per essere visto. Una candela non ha bisogno di una luce per essere vista. Accendiamo una lampadina, al tempo di Tommaso non c'erano. Non ha bisogno di una luce per essere vista, quindi neppure in quelle intellettuali. Allora Dio è luce intellettuale, se è luce intellettuale dunque non è visto per mezzo di una luce creata. Vediamo qual è la risposta. Il problema è che la luce di cui parla Tommaso non è una luce che deve illuminare Dio, ma deve illuminare il nostro intelletto. Il lume creato è necessario per vedere l'essenza di Dio, non nel senso che per questa luce diventi intelligibile l'essenza di Dio. Questa luce non ha bisogno di illuminare Dio, Dio è luce già per se stesso, ma perché l'intelletto diventi capace ad intendere. Quindi è una luce che deve illuminare e corroborare l'intelletto umano. Così anche la luce corporale è necessaria per vedere gli oggetti. Questo esempio io l'ho voluto ugualmente riportare, ma non mi convince molto, perché la luce corporale è necessaria per vedere gli oggetti, di questo non c'è dubbio, ma gli oggetti non sono luminosi. Quindi non mi piace perché la luce corporale ha proprio il compito di illuminare gli oggetti, non di illuminare chi li sta vedendo. Non so, può darsi che non abbia capito la similitudine, però a noi qui interessa intendere quello che ci vuole comunicare Tommaso. La luce di cui parliamo non serve per illuminare Dio, ma per illuminare il nostro intelletto. Vedere Dio attraverso un mezzo non è vederlo per essenza, ma se lo vediamo con un lume creato lo vediamo attraverso un mezzo. E' la riflessione che abbiamo riportato proprio nell'articolo precedente. Io posso vedere Dio attraverso un'intuizione particolare nelle stesse cose create. Francesco da Sisi le vedeva, vedeva nell'acqua, nel vento, nel sole, nella terra, nella stessa morte, l'espressione di un amore infinito. Però in ogni caso, San Francesco non contemplava Dio nella sua essenza, ma lo contemplava attraverso le sue opere. Ritorniamo di nuovo alla risposta. Un tale lume non si richiede per vedere l'essenza di Dio, ma quale perfezionamento dell'interretto per collaborare alla televisione. Quindi, questa luce particolare ha il compito esclusivo, non deve essere un mezzo. Un mezzo e una specie di ponte. Assolutamente no. Serve proprio per portarci a Dio attraverso questa elevazione delle capacità del nostro intelletto. Anche perché le capacità dei vari intelletti non sono tutte uguali. E ne vedremo poi questa riflessione nell'articolo 6. 3. Niente impedisce che ciò che è creato sia naturale ad una qualche creatura. O se è proprio necessario questa luce o questa creatura, questo mezzo, diventa una creatura. Ma allora questa creatura, proprio perché ha questa capacità intrinseca, può vedere Dio. Senza bisogno di altro lume. C'è di nuovo una contraddizione con l'articolo precedente. Vediamo la risposta. Il lume di gloria non può essere naturale. Non è uno strumento naturale, non è una creatura. Alla creatura, se non nel caso che tale creatura fosse di natura divina. Quindi, la luce che deve illuminare, rimane pur sempre una luce trasmessa da Dio. È una creazione di Dio. Ma è una luce che ha un compito ben preciso. Quello di illuminare il nostro intelletto e di elevarlo. Non ha fine in se stessa. D'altra parte, nei salmi 35.10 c'è scritto nella tua luce, noi vedremo la luce. Vedremo la luce, ma attraverso uno strumento ben preciso che tu ci darai, la tua gloria, che è luce. Siccome la potenza naturale dell'intelletto creato è insufficiente a vedere l'essenza di Dio, e abbiamo visto il perché, e questo vale anche per gli intelletti angelici, perché c'è una distanza infinita dove l'essenza implica l'esistenza, è un qualcosa di radicalmente diverso, è necessario che per grazia divina gli venga cresciuta la capacità di intendere. non è che siano degli organi nuovi, non è che ci sia una creatura come intermediario, è semplicemente una illuminazione che viene data all'intelletto. Un'illuminazione che prende il nome dallo stesso intellegibile che è Dio, che viene identificato con la luce. Tu sei il luce ai miei passi. E questa è la luce della quale si dice la gloria di Dio l'ha illuminata. Viene chiamata in modi differenti, in forme spesso anche metaforiche. La gloria di Dio l'ha illuminata. Apocalisse 21-23 Quindi un'illuminazione dell'intelletto, una luce dell'intelletto, la gloria di Dio che innalza e corrobora, potenzia le capacità dell'intelletto. In forza di questa luce i beati diventano dei formi. Cioè simili a Dio, secondo il detto della Sacra Scrittura, quando Dio si manifesterà, saremo simili a Lui perché lo vedremo com'egli è. 1 Giovanni 3-2 Attenzione, è sempre il problema angiosiologico aristotelico-tomista. Nel momento in cui io conosco il rosso, divento, il mio intelletto diventa rosso. Nel momento stesso in cui io conosco Dio, io divento Dio. Ma questo non vuol dire che Dio si frammisti con noi, si mescoli con noi in una prospettiva panteista. Andiamo all'articolo successivo, articolo 6. E questa impostazione, questo pensiero dell'articolo 6, ci fa conoscere, ci fa comprendere tutta l'impostazione della Divina Commedia, dove salendo dal cielo della luna ai cieli successivi, la contemplazione di Dio diventa sempre più profonda. Ma non perché Dio sia differente, ma perché le capacità dell'intelletto sono più sviluppate. Questa gloria di Dio di cui abbiamo parlato si rivela, potenzia, più uno che un altro secondo i suoi meriti. sembra che tra coloro che vedono l'essenza di Dio uno non veda più perfettamente di un altro, tutti dovrebbero vedere la stessa maniera. Chiaramente Tommaso non è d'accordo. Questa tesi però è sostenuta anche rifacendosi ai testi biblici. Infatti sta scritto vedremo Dio così come egli è. Non c'è scritto che uno lo vedrà in una maniera e l'altro lo vedrà in un'altra. Anzi, mi sono espresso male. uno potrà contemplare Dio in modo più sincero, più profondo di un altro. Ora Dio ha un solo modo di essere quindi sarà visto da tutti alla stessa maniera. Certo, Dio ha un solo modo di essere ma è chi lo contempla e l'intelletto che la contempla che ha modi differenti di essere perché non tutti gli intelletti hanno le stesse capacità ma in questo caso noi diciamo non tutti gli intelletti ricevono quella gloria di Dio nella stessa misura. E infatti leggiamo nella risposta quando si dice vedremo Dio come egli è quell'avverbio come determina il modo della visione da parte dell'oggetto visto. L'oggetto visto è quello che è non può cambiare. Non determina il modo della visione da parte del soggetto che vede. Quindi nel momento in cui leggiamo vediamo Dio come egli è Dio è uguale per tutti ma tutto è proporzionato alla gloria di Dio che viene comunicata ai singoli intelletti. Sant'Agostino dice che uno non può intellettualmente intendere una cosa più di un altro dunque tra quelli che vedono l'essenza divina uno non deve più non vede più chiaramente dell'altro sembrerebbe così ma la risposta sostanzialmente è la stessa quando infatti si dice che uno non intende meglio di un altro una medesima cosa siamo nella verità se ci si riferisce al modo di essere della cosa intesa non però se ci si riferisce al modo dell'intendere perché l'intendere dell'uno è più perfetto dell'intendere dell'altro quindi anche quando ci troviamo a scuola anche secondo la nostra esperienza quando noi sappiamo che noi stessi riusciamo ad intendere qualcosa meglio di un altro quando percepiamo che i nostri alunni c'è chi riesce a cogliere meglio in modo più completo di un altro non vuol dire che la cosa intesa sia più o meno completa che l'oggetto della nostra conoscenza si presenti in modo più chiaro più scuro è il nostro intelletto che secondo le proprie capacità arriva ad una certa misura di comprensione in questo caso non è tanto l'intelletto secondo le proprie capacità ma l'intelletto secondo l'illuminazione ricevuta secondo quel lume di cui abbiamo detto nell'articolo precedente che viene chiamata gloria di Dio argomento 3 se uno vede più perfettamente di un altro si deve a differenze di capacità intellettiva e così la conseguenza sarebbe che chi possiede una potenza intellettiva naturalmente più elevata vedrebbe Dio più chiaramente il che è falso essendo promessa agli uomini riguardo alla beatitudine l'uguaglianza con gli angeli la diversità del vedere non dipenderà dall'oggetto ma dalla diversa capacità non già naturale bensì sopranaturale gloriosa dell'intelligenza come si è detto infatti anche gli stessi angeli hanno una capacità meno profonda o più profonda di contemplare l'essenza divina e questo se vi ricordate Dante per varie ragioni non c'è dubbio che c'è la ragione del merito ma c'è anche la ragione della predestinazione quando Dante chiedeva delle spiegazioni a questo proposito gli si rispose non puoi neanche l'angelo che ha la conoscenza più profonda nell'abisso divino può darti una risposta a questo quia quindi accontentati di quello che sai il resto è sconosciuto anche agli angeli è chiaro che con predestinazione non intendiamo predestinazione alla dannazione come nella prospettiva luterana stiamo valutando la predestinazione alla gloria che può essere nei confronti degli spiriti gloriosi più o meno accentuata e se vi ricordate già Dante diceva per noi anche se apparteniamo all'ultimo cielo al più basso quello della luna ebbene sappiamo di avere una conoscenza meno approfondita degli altri tuttavia per noi tutto questo è ugualmente gioia e piacere perché ci conformiamo pienamente nella virtù divina che contempliamo ed è armonia set contra la vita eterna consiste nella visione di Dio secondo l'espressione evangelica la vita eterna consiste nel conoscere te solo per lo Dio Giovanni 17 3 però Paolo aggiunge 1 Corinti 15 41 un astro è differente da un altro nello splendore non tutti gli intelletti angelici non tutti i beati risplendono dello stesso splendore e la teoria dei gradi è la gradualità non ci sono salti natura saltus non facita ancora di più ciò che è spirituale tra coloro che vedranno Dio per essenza uno lo vedrà più perfettamente dell'altro perché l'intelletto dell'uno avrà una capacità o potenza maggiore dell'altro vedere Dio la facoltà poi di vedere Dio non appartiene all'intelletto creato in forza della sua natura bensì per il lume di gloria quindi in una prospettiva di gloria non è che Tommaso d'Aquino che è stato dichiarato dottore della chiesa e che indubbiamente ha una conoscenza profonda di Dio non ha la sicurezza di poter contemplare Dio in una profondità superiore di quella povera donnina del tempio che lasciava quella monetina tutto quello che aveva nel tesoro del tempio può essere benissimo che la persona più ignorante più semplice più esperta abbia nell'altra vita una conoscenza più profonda del dottore plurilaureato anche evidentemente in teologia e in filosofia che vive in questo mondo parteciperà poi più largamente di questo lume di gloria colui che ha un grado superiore di carità ed è bello tutto questo tutto dipende dalla carità non dalla ricchezza di questo mondo vi ricordate che l'etilibro di vanità delle vanità tutto è vanità preparatevi un tesoro nel regno dei cieli ma questo tesoro si fonda sulla carità tutto passerà fede e speranza diceva Paolo ma la carità rimarrà in eterno perché Dio è carità Dio è amore perché dove si ha maggiore carità i vi si trova maggiore desiderio e il desiderio rende in certo modo colui che desidera più atto e più pronto a ricevere l'oggetto del desiderato anche qui c'è una spiegazione razionale però capite che anche il desiderio è nella predestinazione un dono divino è vero che il desiderio anche questo dono divino deve essere corroborato e alimentato in questa vita però non tutti possono riceverlo in una misura uguale un talento dieci talenti noi lo cerchiamo di alimentare in questa vita e il desiderio è evidente che più è sottile più è elevato più è pronto a ricevere la gloria divina e quindi a contemplare l'oggetto ultimo fine ultimo della nostra esistenza cioè Dio di un'oggetto di un'oggetto di un'oggetto